carissimi amiche carissimi amici buongiorno buongiorno al vostro caro giocherellone il giocherellone che come al solito ogni giorno vi porta titoli spettacolari titoli incredibili e oggi vi porto una vera e propria chicca vi porto xenon 2 mega blast per commodore cd tv che cos'era il cd tv carissimi amici e carissimi amiche il cd tv era una console che poteva leggere anche cd video della commodore quindi era praticamente un vero e proprio commodore amiga 500 tutto totalmente incorporato che aveva anche la funzione appunto di far visionare i video cd pensate pochettino costava anche tanto da tantissimo pensato pochettino ed era ed è stata commercializzata prima del famoso amiga cd 32 che era praticamente un comodo era mica 500 con il supporto cd rom quindi fatta a console praticamente spacciata appunto per un 32 bit anche se in realtà parlare di tenente a due bit sui on computer è in realtà un pochettino particolare va bene signori andiamoci a vedere questo mitico gioco dei bitmap brothers che il seguito praticamente del mitico xenon che avevamo visto già la scorsa volta addirittura c'è anche la possibilità di giocare nella lingua pensate un pochettino italiana ovviamente solamente per quanto riguarda i fantastici e i mitici sottotitoli abbiamo delle opzioni vedete un pochettino delle opzioni che grafiche che appunto si 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 riversano poi dopo sulla possibilità vedete ragazzi di andare a interagire su alcune opzioni ovviamente questa è per la versione vedete un pochettino si scelgo la tua musica scegliamo la musica sentiamo da ascoltare praticamente vediamo un pochettino seleziona vedete ragazzi ci sono le varie musichette vediamo un po va bene signori andiamo avanti andiamo avanti per la nostra grande strada vediamo un pochettino vediamo un pochettino quindi andiamo ovviamente a ricaricare il tutto pensate che se non è uscito anche sul mitico pensate un pochettino suggerimenti qui addirittura di gioco è uscito addirittura su avvertenze vedete nessuno l'astronave la megablast è un piccolo ma perfetto mezzo da guerra il modello di base è fornito da un propulsore per facilitare i movimenti di un lanciaproiettile elementare per distruggere qualsiasi cosa in vista e di uno scudo per attuare le collisioni una volta che lo scudo è esaurito l'astronave viene distrutta nel prossimo attacco che deve sostenere avete a vostra disposizione uno squadria di tre caccia lo schermo il vostro bra 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 ovviamente il passaggio tutti i mostriciatori tutte le opzioni eccolo qua il vendere quindi se è possibile anche comprare e vendere praticamente quelli che sono i nostri praticamente i nostri incredibili i nostri incredibili ovviamente elementi quindi vedete un pochettino c'è veramente di tutto e di più quindi un bel e proprio manuale interattivo che giustificava poi dopo l'acquisto praticamente della versione cd tv andiamoci a vedere praticamente il tutto e casomai giochiamo con i nostri mitici vedete ragazzi music on music off mettiamo siamo usciti qui ovviamente se ha caricamenti lampo perché ovviamente stiamo parlando ovviamente di di caricamenti legati al mitico a pochi chilobatt ovviamente di di memoria da andare qui a utilizzare si può giocare anche due persone diciamo giocatori non nello stesso tempo ma alternati andiamo a vedere questo mitico xenon quanto è migliorato rispetto ovviamente alla precedente incarnazione quindi andiamo sicuramente ad aumentare la nostra velocità grafica di altissimo livello come potete vedere un gioco un po scattoso dobbiamo dire tutto è però ragazzi dobbiamo dobbiamo dirla come si deve vedete ci sono questi elementi veramente particolari fantastici addirittura questi questi anche a cui si potrebbe dire organici vedete un pochettino andiamo qui sopra a prendere quest'altro quest'altro diciamo cosettino che ci permette anche addirittura di sparare di sparare ragazzi addirittura al contrario al contrario quindi nella parte posteriore praticamente del gioco attenzione che questi capsulotti vanno qui sopra veramente a inficiare tantissimo si è andata a sbattere contro ovviamente il nostro schermo di gioco vedete un pochettino a distruggiamo i polpettoni vedete ragazzi questi polpettoni veramente assurdi ma stiamo attenti con queste gocce di proiettili quindi xenon 2 per cd tv è veramente qualcosa di siamo molto molto sofisticato certo non si discosta tanto dalla versione per commodore amica ci sono elementi si potrebbe dire di tipo di tipo molto particolare legati appunto guardate un pochettino guardato col dondolone praticamente avete visto il dondolone che ci stiamo andando avanti qualche cosa di particolare siamo siamo morti e poi è bello della dei beat map brothers che ovviamente si erano già fatti conoscere con speedball poi c'è anche il mitico e fantastico ovviamente god c'è anche il mitico pocket pocket magic pocket ragazzi magic pocket chi se lo ricorda magic pocket ci siamo persi la farfallina e poi guardate queste animazioni questi vermiciattoli veramente assurdi che escono da ogni forma di buco praticamente qui ovviamente ci siamo ci siamo veramente incastrati ragazzi guardate possiamo addirittura andare all'indietro quindi al fine di evitare ovviamente situazioni molto spiacevole xenon 2 mega blast e così certo forse le migliori versioni sono quelle per console dove c'era musica ed effetti sonori nello stesso tempo quindi non c'è non si discosta molto devo dire la verità dalle versioni appunto dalle versioni appunto per comodo raminga dobbiamo dire avete attenzione ovviamente a queste parti qua mamma mia ragazzi arrivano veramente dappertutto questi esseri ovviamente c'è anche una forte inerzia praticamente dell'astronave che sicuramente non fa non fa del bene alla giocabilità ragazzi dobbiamo dire dobbiamo dire comunque le versioni migliori forse sono quelle là per 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 console che sicuramente hanno fatto hanno fatto anche loro ragazzi vedete un pochettino quindi possiamo mettere il nostro nome ma io direi proprio di iniziare una nuova partita quindi di andare praticamente via vedete un pochettino di premere l'altro tasto che ci permette appunto di andare ovviamente a vedere a vedere come portare avanti questo mitico gioco andiamo a togliere la musica per mettere gli effetti sonori e siamo pronti ragazzi siamo pronti per la grande battaglia ecco qua vedete in xenon abbiamo sempre questa mitica incredibile ovviamente una micella che parte con una lentezza veramente assurda ma l'inerzia praticamente di questa astronave è veramente qualcosa di fenomenale diciamo che viene fatta vedete ragazzi viene fatta viene fatta annusare praticamente viene fatta visionare praticamente da questi da questi ovviamente piccolini vedete ci pigliamo il nostro mitico modellino praticamente non siamo riusciti nemmeno a colpire un essere ovviamente fluttuante ragazzi vedete un pochettino da queste parti qua c'è veramente di tutto e di più la versione cd tv in realtà non giustifica sicuramente l'acquisto del cd tv della comoda l'amica cd tv che rimane una si potrebbe dire console da di vera di vera nicchia non computer console un ibrido tra nuovo tra tra console ovviamente tra console ovviamente un computer che sicuramente non convince non ha forse non ha mai convinto nessuno dobbiamo dire la verità ci pigliamo questa pallina al fine di forse di recuperare un pochettino di vita ragazzi dobbiamo dire questo dobbiamo dire la verità dobbiamo mamma mia ragazzi trilobite che arrivano veramente da dietro e ci vanno a penetrare lo scafo dell'astronave e ci siamo ancora ragazzi ci siamo ancora perché in questo in questo mamma mia ragazzi guardate qui sopra cosa succede succede veramente di tutto e di più succede veramente di tutto e di più al fine di andare praticamente a replicare vedete ragazzi guardate qui sopra andate 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 a vedere andate mamma mia ragazzi arrivano palle veramente dappertutto queste palle veramente assurde guardate un pochettino la storia del videogioco l'ha fatta anche sicuramente su un computer guardate questo il ciondolone praticamente avete visto questa grande questa grande c praticamente l'ha fatta anche diciamo bitmap brother soprattutto con god god fu fatto anche un famoso un fantastico remake dobbiamo dire la verità e ragazzi quindi stiamo parlando sicuramente di una casa che poi dopo è avuto il suo grande auge il suo grande ovviamente più che altro hype dobbiamo dire la verità ragazzi guardate un pochettino qui andiamo veramente a spostare quello che addirittura questi permiciattoli che arrivano dappertutto in realtà il gioco non è nemmeno troppo difficile in questa diciamo prima versione del titolo praticamente vedete recuperiamo questi c che sono appunto i crediti da andare a utilizzare all'interno del nostro praticamente del nostro del nostro negozietto con il mitico venditore il venditore di sciocchezzole potremmo dire la verità ragazzi veramente assurdo io però consiglio sicuramente di giocare a xenon nella sua versione sicuramente per console dove potete gustarvi oltre che agli effetti sonori anche la musica musica che purtroppo però nella versione diciamo il mio possesso non si sente va bene ragazzi che dirvi vale la pena giocare quindi oggi a xenon sicuramente sì ma io consiglio sicuramente le versioni maggiormente idonee fatte proprio per home computer va bene però come per console per console il voto ovviamente gli ha un bel sette perché sicuramente ai quei tempi sicuramente c'era qualcosa di fortemente bello soprattutto nell'ambito grafico e musicale poi lo sentiremo nelle versioni per console ragazzi vi ringrazio per la visione se vi piacciono i miei video iscrivetevi youtube e twitch ovviamente c'è anche telegram discord e facebook e ovviamente vi aspetto potete donare abbonarvi e mettere mi piace condividere video ragazzi io vi saluto vi auguro buona giornata però ci vediamo tra due minuti con un altro credibile videogioco dove sul canale giocarellone ciao a tutti a tutti ciao ciao ciao